Passiamo questo, guardiamo questo se va Passiamo il volume, ovviamente Come giusto e ovvio che sia Qua, buona, ok grazie Perfetto Ciao a tutti ragazzi sono Tanti e oggi sono qua ragazzi con voi in un nuovo episodio di One Shot Benvenuti nella demo barra beta, open beta di Modern Warfare 2 Quello nuovo che deve uscire, il remake o robe del genere, non so come cazzo è Beta 4 giorni, buono raga Io, questo video qua andrà su, anche su Youtube Intanto vi dico che proverò a oggi, proverò a giocare, saranno 3 video Proverò, partita veloce Soccorso prigioniero E knockout Per vedere cosa sono le varie cose Oppure le potremo provare anche direttamente adesso Comunque ci giocherò A tutte e tre le modalità Vediamo un attimo, però voglio proprio giocare adesso alla partita normale, classica Partita veloce Andiamo Armi, vediamo un po' Tanto devo aumentare il livello per... non posso fare Operatori C'ho... Cleo, Zimo, Guz Mi piace Guz, mettiamo Guz Bello Guz E qui, anche qui ragazzi 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 il nemico cattura bravo prendiamo alfa il nemico ha preso bravo controlliamo alfa andiamo a aumentare un po' sulla sensibilità cambio caricatore prendiamo bravo madonna quanto l'ho aspettato il nemico cattura alfa cazzo è dark side controlliamo bravo ora siamo in vantaggio stiamo prendendo charlie possiamo charlie dai ciccio abbiamo tutti gli obiettivi difendete il perimetro il nemico prende bravo siamo bravo cazzo il nemico prende alfa il nemico è vicino il nemico prende bravo il nemico cattura charlie eh che cazzo stavo modificando le cose porca puttana devo sentirci un po' anch'io nella mia mente mi ammazzano tutti i tizi ma va il culo non ci puoi dare fammi spawnare dai 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 che cazzo ho fatto cagare addosso quei macchine che sono un po' troppo che sono un po' troppo cambio caricatore portana leva cos'è questo? ah figo è un'arma un po' di merda questa c'è la classe cecchino no UAV nemico attivo eh fanculo siamo sullo che negociarli missile cruise alleato in avvicinamento mani veloci e funzione il nostro UAV è in sorvolo che cazzo mi sono andato non ho un po' cingo non menga mi ha shottato no raga non lo so non sono più pratico non ci so più giocare un tempo ero bravo minchia raga porca troia vorrei prenderci seriamente la mano su questo cazzo di gioco il nome è Wayne il nome è Wayne dai porca troia Eva posso anche perdiamo alfa l'obiti di sicurezza crocchial contro attacco il nemico ha preso alfa anche perchè l'ultimo code non l'ho giocato io quindi porca merda non mi piace tanto sta mappa non mi fa impazzire troppo aperta esplosivo aereo vicino a voi mercoledì controlliamo due obiettivi ok la pianta vaffanculo mi sono proventato tutto sto cazzo di spazio qui così UAB nemico in volo i nemici hanno lanciato un missile cruz perdiamo Charlie stiamo prendendo alfa siamo sull'obiettivo alfa ma cazzo di mano il compromesso riprendetelo alfa al sicuro UAB nemico minchia ragazzi la mia stessa arma ok ti guardo le spalle siamo sull'obiettivo Charlie arrivo anch'io tranquilo controlliamo tutti gli obiettivi protegge il nemico cattura alfa alfa perso il nemico prende Charlie cambia di merda ragazzi inflessibile cazzo bici mi stanno fottendo ma vaffanculo che cazzo l'ha visto obiettivo bravo compromesso riprendetelo il nemico cattura Charlie stiamo prendendo alfa bravo al sicuro il nemico alfa al sicuro porto è prossima volta granata o flashbang ok ma c'è la flashbang con sta roba non ho ancora capito che cazzo è questo andrì perdiamo alfa obiettivo alfa compromesso riprendetelo il nemico prende bravo stiamo prendendo Charlie Ricarica sicuro UAV nemico attivo No, fanno il culo Regi cida Ti stiamo mettendo in fuga, avanti Ti copro le spalle Controlliamo due obiettivi Baffanculo te UAV alleato in zona La droga, si Buono, dai Quanto è che l'ho fatto? Sette Tre Morti Non si vede Va Ma non sono morto io per ultimo Buono Né bene né male, dai Morti tredici Minchia, un po' tante Però vabbè, siamo ancora all'inizio Quindi che se ne frega Ma a livello due è buono Oppure possiamo fare anche un Una prova di ognuno Adesso E poi giocarlo Anzi si facciamo così Andiamo alla lobby Facciamo soccorso prigioniero Avviamo soccorso prigioniero Vediamo un po' di fare un po' tutto Un po' tutte e tre le facciamo Da tanto c'ho tempo E poi mi dedico Decisamente a fare un po' tutto il resto Cioè nel senso a fare tutto il resto A giocare liberamente Nel multiplayer E sperando che magari i livelli rimangano Mi pare una cosa molto bella E poi Come si dice E poi niente raga Altre live su questo gioco Potrebbero esserci in futuro Per Cioè in futuro Ci saranno Ma probabilmente Per Per questi giorni Perché sono la beta di prova E quindi Ci può stare E poi Diciamo che Come si dice E poi più avanti Ovviamente Quando uscirà il gioco ufficiale Giocheremo anche a Cambiamo Anzi cambiamola Cambiamo questo Ah devo aspettare che Aggressione Aggressione Ah Capito Com'è Carino Non è male Tipo rainbow Non è per niente male Bello Bello poi come vedi Che si è proprio dalla testa Bellissimo Ci sono quelli che difendono E quelli che attaccano Ok Bella Bella Questa visuale qua Raga Mi piace un botto Fantastica Avrebbero dovuto implementarla A rainbow Già tempo fa Il nemico ha preso un prigioniero Andate al punto di estrazione Erano alleati Il nemico sta trasferendo un prigioniero Recuperate Il round è nostro Preparatevi al prossimo Che bello aver giocato Ho vinto Ho vinto Si ha sparato in testa Quello che doveva proteggere Però va bene Adesso io devo attaccare Ah devo prenderli Devo recuperarli Devo stare all'occhio Devo stare Devo stare molto all'occhio Perché qui mi Mi inchiappettano Qui si mi inchiappettano È una brutta cosa Devo andare 4-4 Guardo le spalle Il nemico Cazzo Eh Ti copro io La cosa è visuale Qua è Ok Ti copro io Raga Questo con gli amici È fantastico Bruttuna flashbang Bruttuna flashbang Vaffanculo Vaffanculo Bellissimo È fantastico È fantastica Questa modalità È bellissima Questa modalità Raga Bellissima Bellissima Ok Ti copro Cazzo ma Vedevo Vedevo tutti gli altri Non ci ho fatto caso Vaffanculo A me Grandissimo Grande Grande Che sfiga Bellissima 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 Uno che mi rianima No Io ho vinto la partita di prima Tiraci un R3 Su O qualsiasi tasto tu hai Ti copro le spalle Vai Ah Eh Eh Bazzardi Eh Cazzo No 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 Eh Round perso Preparatevi al prossimo Vabbè Che si fa Eh Era in una buona posizione Lui Inversione Parti Uh Difendiamo Buono Soccorso prigionieri Buono 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 Baseplate A 6x1 Impedite al nemico Di estrarre i prigionieri Che coglione Missile cruise In avvicinamento Il nemico ha preso un prigioniero Bella però questa modalità Eh Questa modalità Qua È un È DVD rainbow Ma più dinamico È come rainbow Ma più dinamica Come salva Salva l'ostaggio Bella Non è male Non è male Per niente Beh Fatto schifo E poi pretendere Sono entrato anche dopo Comunque Non è male Dai Mandoniamo la lobby Proviamo knockout Vediamo cosa devi fare In knockout Impossibile connessi Insieme a un data center Controlla la tua connessione A internet No Ok Sta cercando il coso Comunque E non è male Quella lì Salva l'ostaggio Buono Vediamo un po' Cosa dobbiamo fare Knockout Prendete l'obiettivo O eliminate il nemico A lavoro Obiettivo Ah è come l'altro Stanto che devi Prendere le cose In movimento Missile cruza Alleato in uso Vado qui Manca un minuto Buono A prossimo Mostra questo Knockout Eliminate ogni minaccia O prendete l'obiettivo Datevi da fare Abbiamo un'obiettivo sicuro Riprendetelo Bellissimo Bellissima sta cosa Della telecamera Sull'elmetto Diciamo E' veramente un tocco di classe Sono curioso di vedere La campagna No Cazzo Che sfiga Vaffanculo E' importante Capire cosa bisogna fare Nelle varie cose Oggi un po' così Oggi un po' così Oggi ci Facciamo un po' Un attimo queste Poi ritorniamo nel multiplayer Che voglio un po' Giocare un multiplayer Queste però Sono veramente belle Cazzo Questo gioco qua Merita Vado qui Prendete l'obiettivo O eliminateli Vi chiedo Una ricognizione aerea Manca un minuto Obiettivo sicuro Comendete il portatore Abbiamo vinto Preparatevi a farlo di nuovo Minch Boa Comunque come arma Mi piace più la seconda Questa qua Dispetto Prendete l'obiettivo O ripulite l'area La decisione aspetta a voi Ti guardo le spalle Cambio caricatore Cazzo Lancio un folgoratore Abbiamo preso Ultimo minuto Mi stai ranimando Grandissimo L'area overclock online Riprendetelo Riprendetelo Abbiamo il caricatore Restano 30 secondi Ultimo caricatore Oh è la mia Sarà la mia Eh penso di si Dimmi di si ti prego Oh si E' un po' E' merda Però dai Lo ciccato Tutto il tempo Però va bene Mi sono riscattato Belle queste modalità qua Mi piacciono un botto Sono bellissime queste Peccato che per cosa Costò 80 euro il gioco Porca puttana Mi sono perso Comprarmelo Perché si Però cazzo Sono pesanti eh Aspetta Ah c'è solo due modalità Va bene Allora Fanculo Gucci C'è ghost Soap Ma sto la maschera Price Ma c'hanno le maschere Nel suo nuovo gioco Farah Ah è quella del primo Mi sembra Ah scusa Beh dai non è male Facciamoci Due o tre partite Vediamo un po' com'è Mi caccazzo Ah per quando fare le cose In grosso Bello Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Farmicciotto Vediamo questa Mi ha tirato un botto Questa qua Vado Vado Dominio Jager 1 Controllate gli obiettivi Prendiamo Charlie Stiamo prendendo Bravo Bravi Bravi Obiettivo Charlie Al sicuro Obiettivo bravo Al sicuro Ci siamo portati in testa Cazzo Il nemico prende Charlie Ecco Prendiamo Alpha Mi ha visto Il nemico ha preso Alpha Che sfiga del cazzo Siamo sull'obiettivo Siamo sull'obiettivo bravo Che posizioni di tomba Una roba del genere Il nemico controlla due obiettivi Assaltate quelle postazioni Il nemico prende Charlie Prendiamo Bravo Missile cruzo Stile Lanzato Siamo sull'obiettivo Alpha Il nemico ha preso Bravo Al sicuro Stiamo prendendo Alpha Cazzo Sangue freddo In funzione Prendiamo Alpha Controlliamo Alpha Il nostro UAV Il nostro UAV è in sorbolo UAV nemico attivo Due obiettivi catturati Due obiettivi catturati Missile cruzo Alleato in arrivo Vizio di ricaricare Vaffanculo a me Prendiamo Charlie Obiettivo bravo Compromesso Riprendetelo Uccide d'assalto Marcato Il movimento Siamo sull'obiettivo bravo Cazzo Siamo sull'obiettivo bravo Vaffanculo Ti copro Obiettivo bravo Al sicuro Vado qui Il nemico cattura bravo Siamo sull'obiettivo Charlie Perdiamo Alpha Il nemico ha preso bravo Cambio caricatore Stiamo prendendo Charlie Abbiamo perso tutti gli obiettivi Cazzo Ma sempre in testa Mi devono prendere Sti bastardi UAV nemico in zona Prendiamo bravo Missile cruzo Alleato in arrivo Mh UAV alleato online Stiamo prendendo bravo Il nemico ha due obiettivi Prese Prendendo Fantasma Siamo sull'obiettivo Alpha Cazzo Che ne arrivano sempre di nuovi Bello dentro Viporo Obiettivo Alpha al sicuro Perdiamo Charlie Prendiamo bravo Ci siamo portati in testa Obiettivo Charlie Compromesso Siamo sull'obiettivo bravo Controlliamo bravo Il nemico guadagna Dovete recuperare Siamo sull'obiettivo Charlie Ora siamo in vantaggio Il nemico cattura Alpha Prendiamo Charlie Che figata Controlliamo tutti gli obiettivi Obiettivo Alpha compromesso Il nemico cattura Charlie Bellissimo Che cambio rapido dell'arma Rapidissimo Prendiamo Alpha Abbiamo tutti gli obiettivi Difendete il perimetro UAV alleato in zona UAV in attesa Richiedo ricognizione Aereo alleato Confermato UAV attivo E in sorvolo Bistile cruise Alleato in arrivo Un nemico Grave Alpha Il nostro UAV è in sorvolo Alpha perso Ricarico Attenzione Vaffanculo Spara attraverso I muri Sto pezzo di merda Devo starmi dentro Bravo tranquillo io Perdiamo Charlie Bravo perso UAV nemico In volo Eh l'ho preso Mother warfare Devo per forza Mother warfare È nel mio cuore Mother warfare Non posso dirgli di no Cazzo Così l'ho preso L'ho preordinato Aspetto che arrivi Poi gioco la campagna Poi mi metto a giocare Il multiplayer Cazzo Mi sta già piacendo Un botto Ora c'è la beta Poi domani Mi sembra che ci sia Anche la open beta Cazzo Cazzo Però pensavo Ci fosse qualcuno Siamo di là Non vedo l'ora che scappa Perché manca un po' che giorno Un mese Poco più di un mese Puttana Eva Anch'io che non lancio le cose Questo che cazzo è È un coltello del cazzo Sono un contesto Operatore lanciato Operatore lanciato Prendiamo bravo Escrutivo aereo in avvicinamento Il nemico captura L'inter E non sento i passi Vaffanculo con tutti questi bombardamenti Dai tua madre puttana Eh non dobbiamo perdere B vaffanculo Che cazzo di me Ho paura sento i passi Siamo sull'obiettivo bravo Eh Buono Stiamo prendendo Alpha Ma dove cazzo è arrivato Ma vaffanculo guarda te Siamo sull'obiettivo bravo Cazzo Però 18 kill sti cazzo Sarò morto il doppio però Però sti cazzo Vediamo un po' Giocata della partita Ah Buono Va bene 18-20 Si può migliorare però eh E sei catturato Beh Vieni anche tanto Sei difeso Ci sta Eh ma dominio è migliore eh Dominio è migliore Facciamo una cosa Filtra Let match Leviamolo Che il dominio è più bello Sciacallo eh Cucini da battaglia Cazzo E l'ho già acquistato Che ora sto aspettando che arrivo più o meno vicino ai periodi E ne acquisto tutti i giochi Ah Pede finiti Mettiamoci spettro di nuovo Stiamo prendendo Alpha Dominio Cyber 1 Catturate gli obiettivi e teneteli al sicuro Alpha sicuro Vado qui Il nemico cattura Alpha Stiamo prendendo Charlie Cambio caricatore Niente il coso non cambia Non lo tolgo Prendiamo Charlie Prendiamo bravo Lancia un polgoratore Faffaculo Aspetta ma quindi ho il cecchino io Siamo sull'obiettivo bravo Fammi vedere un po' com'è Oh madonna Oh porca merda La fanculo Cazzo pesantino Sto cazzo di cecchino Con te fino all'ultimo Cambio caricatore Un nemico attivo Stiamo in vantaggio Devo ricaricare Qui qua nelle favelas Non è il posto migliore Per usare il cecco Abbiamo tutti gli obiettivi Sorvegliate il perimetro Carca tuttana Eva Porca Richiedo ricognizione aerea Ricevuto UAV nell'area Ricognizione attiva Il nemico cattura Bravo Il nemico cattura Charlie Il nostro UAV è in sorvolo Due obiettivi catturati Il nemico ha preso Charlie UAV fine autonomia In rientro Siamo sull'obiettivo alfa Cambio caricatore Con una flashbang Controlliamo alfa Il nemico prende braio Versaglio margato La 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 Sì 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 ragazzi che cazzo fatto appena preso il cecchino facciamo subito l'attacco mi ha dato il cazzo io qua quadropla dai vaffanculo da dietro puttana di madre stiamo perdendo charlie poccio di falco ricarico uav nemico in zona due obiettivi al sicuro il nemico prende charlie cazzo che paura dio buono il nemico prende bravo siamo a metà missione occhi aperti obiettivo bravo compromesso riprendetelo ok ok e forse nella mappa di prima nella mappa di prima il cecchino sarebbe stato molto più utile che in questa non vero maestro non si ritira davanti ahhh che cazzo piuttosto crepo ma almeno faccio tante chiude il nemico controlla due obiettivi attaccateli uav nemico in zona prendiamo alpha obiettivo bravo al sicuro cambio caricatore devo ricaricare il nemico cattura bravo stiamo perdendo bravo eh è un casino cambio caricatore bellissimo ah ci bombardano qua sicuro via 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 saffanculo dai killer cat c'è un nemico in volo prendiamo bravo approvvigionamento stile in zona siamo sull'obiettivo bravo il nemico prende charlie tutti gli obiettivi sicuri difendeteli ma perché quando si vede di guardare spuntano che cazzo il nemico cattura alpha apro le spalle UAV alleato online mina grappolo stile in cazzo alpha terzo stiamo perdendo charlie stiamo perdendo alpha due obiettivi catturati abbiamo tutti gli obiettivi sorvegliate il perimetro il nemico prende charlie cambio caricatore charlie perso bravo avvia alleato in zona ma è una termite gli stiamo mettendo in fuga continua ricarico richiedo ricognizione addirittura 26 kill vaffanculo a tutti ah mia con la flashbang l'ho fatta l'ultima kill dai dai scrivetemelo usa i cheat bastardi sono tornato mi basta poco mi basta un po' di riscaldamento e torno ahi che mal mi piace un botto quella classe lì un sacco quella classe lì fantastica basta mi cazzo quanta roba allora adesso facciamo un attimo allora cucili da battaglia no mi cazzo è questa dai non la posso prendere ma vaffanculo no vaffanculo si usa sempre la stessa classe quanto ho fatto io qua eh quasi un'oretta eh però tra 5 minuti mi chiamano niente vabbè niente raga devo staccare qua per forza adesso ok ragazzi io concludo qua l'episodio ringrazio tutti voi di essere passati ringrazio mille la compagnia spero che questa live vi sia piaciuta e vi do appuntamento alla prossima con un altro episodio di one shot vediamo cosa porterò potete che ci sono anche le prove a tempo di cioè prove a tempo le prove gratuite per vari giochi che hanno messo per la playstation che sono tipo demo o robe del genere bisogna vedere però comunque le farò prima di giocare magari i giochi oppure le farò tutte in generale se mi ispirano e comunque niente ragazzi vi do appuntamento alla prossima a un altro episodio di one shot ciao a tutti alla prossima grazie